di Coppa Italia e potrete rifare il bis quest'anno. Speriamo, siamo entrati in campo sapendo che dovevamo dare il massimo sin dal primo minuto, volevamo imporre il nostro ritmo e siamo riusciti a farlo, abbiamo preparato stamattina la partita, abbiamo seguito alla perfezione quello che ci siamo detti ed è andata veramente bene, sono veramente contenta della mia squadra. Soprattutto con la doppia contentezza perché hai giocato gli ultimi minuti con Tosorella Minore. Sono felicissima che abbia segnato il tiro libero, veramente. È veramente un'emozione doppia essere qua con lei. Grazie e complimenti veramente.